Erano i fratelli Vincenzo, Rosario e Salvatore Russo, capi indiscussi della stiglia di Niscemi, veri obiettivi del gruppo di fuoco fornito dalle famiglie di Gela di Cosa Nostra il 23 ottobre del 1990 per fare un favore a Giancarlo Giugno. E questo è il contesto dell'operazione antimafia scattata nella notte dalla squadra mobile di Caltanissetta al culmine di ben 22 anni di indagini. Identificato il gruppo di fuoco con l'arresto di 10 tra capi e gregari di Cosa Nostra di Niscemi, ritenuti a vario titolo esecutori e mandanti dell'assassinio di Roberto Bennici e del tentato omicidio di Francesco Nanfaro, due affiliati alla stiglia niscemese raggiunti dai killer il 23 ottobre del 1990 mentre erano seduti in un bar del paese. Le manette sono scattate per il boss Giancarlo Giugno, 53 anni, e Rosario Larocca, di 56, inteso Saro Pacola, entrambi pregiudicati di Niscemi, raggiunti da ordine di custodia cautelare in carcere. Anche agli altri otto imputati, stato di detenzione e provvedimenti restrittivi sono stati notificati in carcere. Si tratta di Salvatore Calcagno, 58 anni di Niscemi, Giovanni Passaro, di 56 anni, Giuseppe Tasca, di 40, Pasquale Trubbia, di 45, Emanuele Castara, di 42, Emanuele Iozza, di 51, tutti di Gela. E ancora Angelo Tisa, di 45 anni, e Salvatore Siciliano, di 48 anni, entrambi di Mazzarino. L'omicidio di Roberto Bennici e il grave ferimento di Francesco Nanvaro avvennero nel corso della guerra di mafia tra Stidra e Cosa Nostra, in atto in quegli anni nelle province di Caltanissette e Ragusa, di cui Niscemi viene indicato dagli inquirenti crocevia criminale. Il commando di morte, fornito dalle famiglie del clan Madonia di Cosa Nostra, partì da un covo delle campagne di Acate, col compito di ammazzare chiunque incontrassero della famiglia Stidra Raderusso. A sparare sarebbe stato il pendito Angelo Celona, che si autoaccusa dell'agguato, insieme con Francesco Lacognata e l'autista Emanuele Trainito, entrambi nel frattempo deceduti.